Cari amici, ben trovati. È inutile girarci intorno. Questi ultimi governi hanno certamente dimostrato un'allergia, una riluttanza contro i bonus così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, a partire dal super bonus per il quale possiamo determinarne la fine, così come è terminata l'era della cessione del credito e dello sconto in fattura. Però ci sono delle novità che bollono in pentola, novità sicuramente anche importanti, che potremo aspettarci già nel contesto del 2023. Te ne parlo in questo video, prima però se non lo hai ancora fatto attiva la campanella, iscriviti al canale, lascia un like e lascia un tuo commento, mi raccomando perché questo è utile per dimostrare il tuo apprezzamento sui contenuti che sto continuando a produrre. Come ho detto ci sono delle novità e non potevamo altro che attenderle queste novità in funzione dell'attività governativa. Se da una parte i bonus così come abbiamo conosciuto se non ad oggi sono quasi stati spazzate via, sì sussistono ancora, ma sono di difficile attivazione, soprattutto i bonus prioritari più importanti, quelli più costosi, con la fine dello sconto in fattura e la cessione del credito è praticamente difficile, se nonché impossibile riuscire ad accedervi con facilità. Come qualcuno dice, bonus solamente per i ricchi. Dall'altra abbiamo un'Unione Europea che sta spingendo sempre di più per una riqualificazione del nostro patrimonio edilizio, quello più scarso, quello in classe G, con due scadenze ben precise, 2030 e 2033. Direte da qui a là ci saranno sicuramente variazioni, certo che si integrazioni, cambiamenti, forse anche posticipi, però noi dobbiamo prendere atto che questo processo si compierà e arriveremo sicuramente al fatto di dover recepire le direttive europee e metterle in pratica. E il Governo deve per forza di cose pensare anche a questo. Se da una parte mi togli bonus, dall'altra devi istituire qualcos'altro, perché parliamoci chiaro, in Italia la famiglia media non ha più la disponibilità economica per poter essere sottoposti ad un obbligo di riqualificazione con risorse proprie. Ed ecco che l'11 di aprile è stato pubblicato il DEF. Ma cos'è il DEF? Documento di Economia e Finanza che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria nel nostro Paese, proposto dal Governo e approvato dal Parlamento. Nel DEF vengono in qualche modo aggiornate le previsioni relative al quadro macroeconomico e al quadro di finanza pubblica e politiche invariate. Insomma in qualche modo è un documento di programmazione nel medio termine. Ma cosa ci racconta il DEF? Molte pagine. Io ho estrapolato solamente un passaggio molto importante che vi condivido e vi mostro. Eccoci qui. Alla pagina 63 cosa troviamo scritto? Dall'abolizione del possibile utilizzo dei crediti fiscali e dello sconto in fattura derivano anche implicazioni strutturali legate alla transizione ecologica in atto che richiedono l'adozione di nuovi interventi. Da un lato sono state introdotte misure che consentono la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta per limitare categorie sociali come l'edilizia popolare e le organizzazioni no profiti per gli interventi relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici o per opere in aree a maggiore rischio sismico. Dall'altro anche alla luce della discussione in sede europea della direttiva cosiddetta case green emerge la necessità di intervenire con misure non più straordinarie o emergenziali bensì con programmi fondi e risorse coerenti con il quadro di finanza pubblica è in grado di determinare un sostegno al mercato delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie che sia permanente e sostenibile nel tempo. È sufficiente leggere questa parte per renderci conto che già nell'anno 2023 assisteremo sicuramente a delle novità che metteranno in campo una formulazione di bonus accessibili sicuramente nel rispetto della finanza pubblica ma che permettano innanzitutto di essere strutturali nel tempo. Non assisteremo quindi più ad un balsello di rinvii anno dopo anno con le scadenze al 31 dicembre poi rinnovi dell'ultimo minuto con una corsa all'edilizia che ha prodotto l'intasamento del mercato edile con l'innalzamento dei prezzi ma qualcosa di strutturale ovvero una formula di accesso che vada a consentirci di utilizzare delle risorse di pianificare gli interventi programmati nel tempo con delle legislazioni che abbiano una durata strutturale permanente nel tempo. Questo è quello che ci si aspettava qualcosa che non sia troppo coinciso e limitato nel tempo che produca come ho detto la corsa l'intasamento delle imprese l'inalzamento dei prezzi l'impossibilità ad accedere per poi assistere a degli interventi che da una parte subiscono numerose variazioni così come è successo per l'articolo 119 l'articolo 121 parliamo del super bonus e della cessione dello sconto in fattura con il marasma con la confusione che poi dà adito sicuramente agli accertamenti ai controlli alle sanzioni e ad una condizione per il quale chi abbia avuto modo di accedere al super bonus chiaramente in onestà e con la sicurezza e con la speranza di aver realizzato i propri interventi con una buona regola e non dorme sono i tranquilli perché con tutte queste variazioni legislative cadere nell'errore è estremamente facile il governo quindi ha preso un impegno un impegno chiaro che troviamo scritto nel def l'impegno di formulare una normativa di agevolazione strutturale nel tempo che possa quindi rimanere permanere chiara che non ci obblighi ad effettuare la corsa ma che ci permetta di programmare a media e lunga scadenza le nostre attività in modo strutturale in modo adeguato che consenta quindi il rilancio dell'economia dell'edilizia senza più l'affanno e di conseguenza questo significa riuscire a programmare nel tempo i nostri interventi non riusciamo ora bene vuol dire che mi metterò in fila riuscirò tra un anno tra due o tra tre un intervento di edilizia per il miglioramento energetico come quello che ci viene richiesto da europa deve avere una programmazione dai tre ai cinque anni tra l'organizzazione macroeconomica anche all'interno della famiglia l'individuazione delle ditte l'applicazione legislativa che non deve più variare nel tempo ma deve essere ben scritta ben applicata di facile comprensione e che non dia adito a inciampi e a errori involontari lasciamo stare quelli che truffano questo è quello che in italia ci dobbiamo aspettare ed ecco che il governo con il def lo ha scritto nero su bianco quindi vediamo un attimo le prossime mosse vedremo il governo come si comporta quali saranno le novità che sicuramente a breve e io mi aspetto già nel contesto del 2023 saranno in qualche modo descritte non dico emanate ma saranno sicuramente sviluppate in modo da poter gradualmente aderire e essere pronti a quelle che saranno le imposizioni qualcuno li chiama anch'io li chiamo i diktat dell'unione europea con ciò che dovremo sicuramente essere pronti ad eseguire a normativa recepita questo è ciò che mi aspettavo spero che anche voi abbiate colto questa opportunità come positiva a prescindere dal colore politico dal governo di turno però sicuramente quello che ho letto nel def è qualcosa che mi rincuora è qualcosa che permette chiaramente di identificare che il governo sta pensando a delle misure di lunga durata misure di lunga durata che ci permetta a noi famiglie italiani che non abbiamo più disponibilità economica di poter intervenire senza essere presi in giro da una parte senza essere presi per il collo dall'altra e o senza rischiare di avere delle abitazioni che non rispetteranno più i requisiti che ci imporranno con tutti i rischi correlati e tutti gli spauracchi che ogni tanto sentiamo dire che leggiamo io credo che non ci siano né spauracchi né rischi di non poter affittare di non poter vendere di non poter più disporre dei propri immobili no insomma questo significerebbe la rivolta non può capitare una cosa di questo tipo e la dimostrazione che non può capitare uno scenario come questo lo leggiamo dove nel def che è stato appena pubblicato questo è un video breve spero che l'informazione sintetica sia stata positiva voglio sapere come la pensate lasciate un commento sotto scrivetemelo e sicuramente svilupperò in modo un pochino più completo questo punto anche con dei professionisti che ho invitato che presto vedrete qui nel mio canale se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un like attivate la campanella lasciate un vostro commento e per il momento da diego santi è tutto al prossimo video ciao Grazie a tutti